Pace e bene cari amici, bentrovati! In questa terza domenica entriamo nel Vangelo secondo Matteo che ci accompagnerà lungo l'anno liturgico A. Brano di oggi un testo asciutto, privo di dettagli eppure profondissimo, ricco di spunti, potremmo quasi vedervi una sorta di programma dell'intero ministero di Gesù. Noi entriamo in questo testo prendendone tre spunti in particolare. Il primo lo intitoliamo la luce della parola, tra l'altro in questa domenica che Papa Francesco ha voluto diventasse proprio la domenica della parola. Matteo ci dice che Gesù saputo dell'arresto di Giovanni Battista si ritirò in Galilea, andò ad abitare a Cafarnao perché si compisse quanto detto dal profeta Esaia. Interessante, Matteo sottolinea per almeno undici volte nel suo Vangelo che Gesù adempie le scritture. Qui evidenzia il fatto che la scelta di Gesù è proprio motivata, condotta da quanto era stato detto dal profeta Esaia. Nel battesimo abbiamo visto che su Gesù si è posato lo Spirito Santo, in lui è pienamente presente lo Spirito, lui è condotto dallo Spirito. Oggi ci viene detto che nelle sue scelte è anche guidato dalla parola di Dio, da quanto profetizzato, da quanto scritto. Questi due punti, Spirito Santo e parola di Dio, sono due punti fondamentali anche per la nostra vita. Chi è il cristiano? È il figlio di Dio che cerca di fare la volontà del padre e come discerne, come agisce il cristiano con docilità allo Spirito e lasciandosi guidare dalla parola di Dio, dalla Sacra Scrittura. Come si fa a crescere nella docilità allo Spirito? Frequentandolo, invocandolo, pregando. Ed è con lo Spirito che ci muove interiormente con le sue consolazioni, desolazioni e diventa tanto più familiare quanto lo frequentiamo. E poi il cristiano è colui che è guidato dalla parola, dalla Sacra Scrittura. Che bello se iniziassimo a chiederci sempre più frequentemente, ma Gesù al mio posto, cosa farebbe? E concretamente come lo capiamo? Meritando la parola, leggendo, pregando, meritando, custodendo il Vangelo, imparandoci a chiedere, ma questa scelta, questo mio modo di fare, questo desiderio, questo sentimento, innanzitutto, è secondo il cuore di Dio, è secondo il Vangelo. È anche interessante notare che Gesù legge dietro l'arresto di Giovanni Battista il momento di avvio della sua missione. Vedete, la parola non soltanto quando viene letta, meditata, ruminata, direbbe Sant'Agostino, diventa davvero luce, potremmo dire centro decisionale del nostro cuore, ma diventa anche una, diciamo, un occhiale attraverso il quale leggere meglio la realtà. Cioè, noi tante volte leggiamo i fatti soltanto in base a gradimento, oppure dispiacere, oppure a un buono o cattivo secondo i nostri parametri, secondo se quella cosa ci piace, oppure viceversa, se sconvolge i nostri progetti. Imparare a leggere invece le cose con una luce più profonda. Cioè, imparare a chiederci innanzitutto, ma Dio attraverso questo evento cosa mi vuol dire? Dove mi vuol condurre? Non è che dietro questa sofferenza, per esempio, c'è nascosto un'occasione? Non è che dietro questa prova c'è un'opportunità? Non è che dietro questa situazione si nasconde per me una possibilità? Allora entrare nella realtà, leggere i fatti con occhi più profondi, con lo sguardo, potremmo dire, di Dio, con gli occhi dei figli che sanno che la loro vita è condotta da un padre che li ama e che se permette alcune cose è sempre per un bene maggiore. Secondo punto, lo potremmo chiamare convertirsi alla bellezza. È interessante perché Gesù nel suo ministero parte dalla Galilea, non parte dalla Giudea, dal centro che è Gerusalemme, ma parte, diciamo, da una terra di periferia dove c'era una commistione di popoli, culture, religioni, incroci di mercati, di genti che vanno, vengono. Insomma, parte dalla periferia, parte da una zona addirittura definita tenebrosa, ombra di morte, quindi una terra confusa. Verete, Dio fa così non solo nel suo ministero, che parte dalla periferia, ma fa così anche con ognuno di noi. Dio bussa al nostro cuore ed entra, non quando è già tutto a posto, tutto sistemato, tutto bello, lineare. No, Dio entra nel nostro disordine per mettere ordine. Dio entra nel nostro peccato per portarci il suo perdono. Dio entra nei nostri fallimenti per darci la sua grazia. Dio entra nelle nostre fragilità per portarci alla santità. Dio fa così nella vita di ognuno di noi. Perché? Perché ci ama profondamente, ci guarda come figli, bussa al cuore di tutti ed entra per portarci la sua grazia. San Paolo dirà dove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. E ci chiama a far così anche nel nostro modo di agire con gli altri, nella nostra prassi ecclesiale, cioè partire dalle periferie. Di lì ci ha detto Papa Francesco, si vedono meglio molte cose. Dunque, Dio entra per mettere ordine, Dio viene per portare bellezza. Per questo Gesù nel suo annuncio centrale del Vangelo dice convertitevi. Perché? Perché il Regno dei Cieli è vicino. Matteo sottolinea, iniziò a proclamare dicendo convertitevi, cioè convertirsi non è cosa di un secondo. C'è il momento in cui aderiamo a Gesù e inizia il nostro cammino di conversione, ma durerà poi tutta la vita. Quindi è un continuo convertirci. Convertirci vuol dire lasciarci rinnovare nella mente, nel pensare, nel parlare, nell'agire. Un continuo convertirci alla bellezza, un continuo lasciarci rinnovare da Lui. Uno potrebbe dire ma convertirmi da che? Beh io in semplicità vi direi partite da quella cosa immediatamente evidente che sappiamo che non va, che ci disperde, che ci schiavizza, che ci fa perdere tempo, occasioni per amare. Quindi ognuno sa profondamente da cosa è chiamato a convertirsi. Ma la cosa bella è che la conversione è finalizzata proprio alla bellezza. Cioè qui il Signore ci sta dicendo guarda è venuto il Regno dei Cieli, è venuto a regnare Dio, cioè Dio vuol regnare nella tua vita, vuol portare la sua pace nel tuo cuore, vuol darti il suo perdono, vuol insegnarti ad amare, vuol portarti alla santità. Dunque convertiti, lasciati rinnovare nella mente, nel cuore da Lui, dalla Sua parola. Avere questo atteggiamento meraviglioso di chi non si sente mai arrivato. Infine, terza e ultima chiave di lettura, direi il seguire Gesù. Qui c'è tutto. Infatti subito dopo noi capiamo cosa voglia dire concretamente questo convertirsi proprio nella chiamata dei primi discepoli. È bellissimo notare che Gesù passa lungo il lago di Tiberiade, vede questi pescatori all'opera, quindi passa nella loro vita quotidiana, li vede e li chiama. Dio fa così con ognuno di noi. Dio passa e ci chiama, ci chiama a conversione, ci chiama a seguirlo, ci chiama ad andargli dietro. Ed è bellissimo perché anche qui, vedete, non chiama gente già pronta, compiuta, sistemata, no, chiama delle persone che porterà a pienezza. Con che occhi ci guarda Dio? Con gli occhi di chi ci ama profondamente, con gli occhi di chi vede nelle sue creature, nei suoi figli, la sua immagine, la sua bellezza e una possibilità immensa di bene. Pensate, questi vengono chiamati, o pensate a San Paolo, viene chiamato dal Signore mentre stava perseguitando i cristiani. Perché? Perché Dio è come un intagliatore di pietre preziose. Vede la pietra preziosa e già intravede il gioiello che ne potrà tirar fuori. E allora dice a costoro, seguitemi, venite dietro a me. Questo è essere cristiani, seguire Gesù. E cosa vuol dire? Per loro a quel tempo voleva dire stare con lui, guardarlo, ascoltarlo, imparare da lui per poi imitarlo. Per noi cosa vuol dire seguire Gesù? Stessa cosa, ascoltarlo attraverso il Vangelo, cercare di contemplarlo, di assimilarne i sentimenti, il modo di agire e poi imitarlo. Questo significa seguire Gesù, imitarlo. Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini. Ecco la bellezza, ciò che Dio vuol compiere, farci diventare come lui. Gente che tira fuori le persone dal mare del male della morte, della confusione, di una vita dissolta nel peccato, in mille prigionie, in tante menzogne, portarle alla luce vera, alla vita vera che è lui. Per questo i discepoli nulla gli antepongono e lo seguono. Fiutano la bellezza, intuiscono la grazia, colgono che in Gesù c'è il di più, che nulla gli si può anteporre. Che davvero possa essere anche questa la nostra esperienza, illuminati dalla parola in un continuo cammino di conversione, andandogli dietro, pace e bene.